Il documento di sintesi è stato suddiviso essenzialmente in due parti. La prima parte ha una visione più ad ampia scala, che inquadra il territorio pordenonese all'interno di un sistema territoriale più ampio. La seconda parte invece ha al suo interno un'analisi specifica del territorio comunale. Il primo tema che abbiamo affrontato a livello sovralocale è chiaramente la conurbazione pordenonese, che ad oggi risulta come un unicum di otto comuni che in qualche modo devono trovare un dialogo soprattutto a livello di pianificazione urbanistica e territoriale. L'individuazione di questi otto comuni consentirà poi di poter fare delle riflessioni anche strategiche, sia a livello infrastrutturale che ambientale, per il potenziamento di questi sistemi. Abbiamo fatto poi un'analisi molto specifica e dettagliata che riguarda la pianificazione dei comuni di prima cintura del territorio pordenonese, proprio per evidenziare gli eventuali contrasti pianificatori, ma anche le sinergie che il comune di Pordenone potrà trovare a livello di scala vasta con i comuni limitrofi. Quindi abbiamo sistematizzato quelli che sono i piani urbanistici che sono stati al momento attivati dai vari comuni, proprio per sensibilizzare questo tipo di riflessione ad una scala più ampia. È stato poi condotto dal gruppo di lavoro un'analisi specifica che riguarda il consumo di suolo. Su questo punto il gruppo di lavoro si è speso parecchio, proprio per dare una visione complessiva del consumo di suolo del territorio pordenonese, non soltanto alla scala comunale, ma anche alla scala vasta, estesa agli otto comuni di nostro interesse. Chiaramente il comune di Pordenone mostra un consumo di suolo più elevato rispetto agli altri comuni, ma da questo punto di vista chiaramente il dato va ponderato anche rispetto alla densità di popolazione, alla presenza dei servizi, alla presenza delle attività produttive che all'interno di Pordenone sono chiaramente più presenti rispetto che negli altri comuni. Uno sguardo particolare il gruppo di lavoro l'ha dedicato ai sistemi ambientali, che necessitano di una visione più ampia rispetto alla pianificazione tradizionale, proprio perché questa visione più ampia consentirà poi di rendere più fluide le planificazioni, ma anche le previsioni rispetto ai sistemi ambientali che connotano Pordenone, ma anche il livello del territorio provinciale. Molto velocemente individuiamo alcuni temi che sono stati studiati in modo specifico alla scala comunale. Il primo tema riguarda il sistema insediativo. Anche qui abbiamo fatto un'analisi abbastanza approfondita su quello che è l'evoluzione del territorio comunale pordenonese in riferimento soprattutto alle aree urbanizzate. Qui sono stati individuati alcuni tessuti insediativi caratteristici del comune di Pordenone che evidenziano un po' i vari livelli di crescita della città. Abbiamo da questo punto di vista individuato un tessuto prevalente che noi riteniamo come tessuto maggiormente sensibile su cui il piano dovrà operare, che è il tessuto di medio-bassa densità che caratterizza lo sprolo urbano del comune di Pordenone, su cui il piano chiaramente dovrà dedicare particolari attenzioni rispetto ai temi del consumo di suolo e della sostenibilità ambientale. È stata poi ricostruita l'evoluzione per fasi del territorio comunale pordenonese, individuando attraverso i piani che si sono susseguiti nel tempo tutte le trasformazioni che hanno in qualche modo connotato e caratterizzato il territorio di Pordenone. Un'analisi specifica è stata fatta sulla vettustà del patrimonio edilizio. Anche qui abbiamo scoperto che il comune di Pordenone, a livello di patrimonio edilizio pubblico, ha avuto una crescita abbastanza esponenziale tra gli anni 70 e gli anni 80, mentre il patrimonio edilizio privato ha avuto un'evoluzione specifica a partire dagli anni 40 fino agli anni 70. Questa analisi la ritorniamo molto importante perché dimostra in qualche modo la vettustà del tessuto urbano del comune di Pordenone che quindi proprio con il nuovo piano dovrà porre particolare attenzione al recupero energetico e oltre che di qualità urbana di questo tipo di tessuto. All'interno delle analisi abbiamo cercato anche di ricostruire quali sono i caratteri identitari, morfolodici, ambientali, nonché socioculturali che caratterizzano Pordenone perché come si sa tutte le città si caratterizzano per formazioni diverse e ci sono elementi che sono identitari per la collettività. In particolare abbiamo individuato i nuclei originari da cui è partita l'evoluzione della città di Pordenone e quindi il centro storico di Pordenone, di Torre, Rorai e Borgo Meduna e all'interno di questo elaborato abbiamo individuato in modo schematico i caratteri identitari che caratterizzano la città di Pordenone, in particolare la città storica, il sistema agricolo che è stato il sistema portante della città storica che poi è stato superato ed è entrato in crisi con l'avvento del sistema produttivo e quindi c'è stata un'evoluzione del sistema urbano. Il sistema produttivo che si caratterizza da due fasce, la fascia della prima industrializzazione che aveva come asse portante l'asse del fiume e poi la seconda industrializzazione che invece si sviluppa a lato delle grandi infrastrutture. Altro elemento che caratterizza Pordenone è il sistema di verde pubblico, quindi il sistema del lungo fiume che rimane all'interno della città consolidata e il sistema di parchi che sono parchi di alta qualità. Parallelamente sono state riportate delle analisi sul tessuto urbano e quindi sulla morfotipologia e le indagini sono state effettuate anche sui caratteri naturali e sui caratteri socioculturali, quindi il sistema produttivo, il sistema commerciale e la città dei servizi e la città pubblica che corrisponde con il nucleo centrale di Pordenone. Sulla base di questo sono stati individuati gli elementi strutturali e invarianti che quindi sono alla base del progetto del PRGC, sono quegli elementi che sono importanti e che vanno sia tutelati che valorizzati, quindi quello che noi individuiamo all'interno di questo elaborato non sono situazioni vincolistiche ma vogliamo porre l'attenzione su dei sistemi che sono fondamentali per Pordenone, il quale ovviamente i centri storici, il sistema ambientale ma anche il sistema del Ring perché è un sistema che delimita la città che oggi individuiamo come città pubblica. Oltre a questo anche il sistema vincolistico dei fiumi che questo ovviamente è un elemento importante e che andrà a influenzare le scelte future. Rispetto sempre alle invarianti abbiamo individuato anche qual è lo stato di fatto della città rispetto al tema del consumo di suolo perché il suolo non urbanizzato è considerato come un elemento prezioso e quindi che dovrà essere alla base di un progetto di sviluppo della città, dovrà essere tutelato e valorizzato. E quindi abbiamo fatto un'analisi sulle aree urbanizzate e non urbanizzate. Oggi Pordenone si caratterizza per il 44% di aree costruite, a cui bisogna aggiungere il 16% sempre della superficie complessiva di aree occupate da viabilità e infrastrutture. Quindi abbiamo un consumo di suolo che si attesta attorno al 59% e oltre a questo elemento che è un elemento importante per il progetto della città dobbiamo anche considerare che il 53% della superficie totale di Pordenone è interessata a vincoli idrogeologici vincoli di ogni tipo, quindi da i vincoli assoluti a aree che sono oggetto di attenzione quindi non ci sono vincoli di inedificabilità totale. Altro tema molto importante per l'elaborazione del nuovo piano sarà chiaramente la mobilità oggetto di attenzione soprattutto in quest'ultimo periodo e su questo il gruppo di lavoro ha condotto delle analisi specifiche che riguardano l'assetto infrastrutturale del comune chiaramente individuando gli elementi critici ma anche le opportunità di sviluppo e di potenziamento. Da questo punto di vista chiaramente il nuovo piano regolatore in accordo con il piano della mobilità che sta partendo in questo periodo dovrà trovare le sinergie e le potenzialità per un nuovo tipo di mobilità all'interno del territorio comunale di Pordenone. Su questo l'analisi specifica che è stata fatta sulle piste ciclabili attualmente presenti a Pordenone ci dà un quadro complessivo di quello che è una mobilità alternativa che Pordenone potrà avere nel prossimo futuro. Da questo punto di vista il comune di Pordenone ha già attivato una serie di politiche che vanno in questa direzione, chiaramente il potenziamento del bike sharing che è già presente a Pordenone è uno dei primi elementi che sarà poi alla base di uno sviluppo sostenibile della città. Anche la sistematizzazione dei parcheggi pubblici in area centrale diventa un carattere cruciale nel senso che una diversa mobilità, una diversa accessibilità dell'area centrale consentirà in un certo modo anche di poter ripensare quello che è il sistema infrastrutturale di Pordenone a partire dal ring per poi spingersi fino al raggiungimento del centro storico con mezzi di mobilità alternativa. A conclusione delle analisi effettuate sul sistema di Pordenone abbiamo preso in considerazione lo strumento vigente, quindi il PRGC con la variante 77 e abbiamo analizzato lo stato d'attuazione, quindi il raggiungimento degli obiettivi che si era proposto il piano. Abbiamo analizzato sia il sistema produttivo che il sistema insediativo nonché quello dei servizi per vedere lo stato d'attuazione, quali sono state le previsioni maggiormente attuate mentre quelle che sono rimasti solo come progetti sulla carta. Sulla base di questo abbiamo analizzato anche l'indotto dei servizi e attualmente la città di Pordenone ha una dotazione a standard pro capite para 45,2 metri quadri ad abitante, quindi uno standard molto alto. Il sistema dei servizi è ovviamente calibrato solo su quello che il vecchio PRGC attualmente in vigore riconosce come servizi la città, ma per avere un quadro complessivo e più realistico dobbiamo anche considerare il sistema degli spazi non costruiti che a oggi riescono a dotare la città di Pordenone di servizi integrativi che a volte sono diretti mentre altre volte sono indiretti, cioè possono essere fruibili per la città o possono dare un servizio che non può essere quantificato nel vecchio tipo di analisi del piano ma che in realtà determina il benessere della città di Pordenone. Quindi sono stati effettuati degli studi sull'uso del suolo, del suolo agricolo, del suolo a verde pubblico e rispetto a una caratterizzazione che riprende quella proposta dalla regione Friuli-Venezia-Giulia abbiamo considerato su tre elementi, tre componenti del sistema ambientale, quindi suolo, acqua e aria quali sono gli indotti che le aree non edificate portano al benessere della città. Per quanto riguarda la componente suolo abbiamo valutato la biodiversità, la morfotipologia delle culture e del sistema verde della città di Pordenone a cui abbiamo dato un valore qualitativo che va da molto alto a molto basso. Da questa analisi emerge che il sistema dei parchi pubblici all'interno del tessuto consolidato risulta essere l'elemento più di valore all'interno del territorio di Pordenone. Sempre all'interno della componente suolo abbiamo valutato anche la quantità di aree che attualmente sono fruibili, quindi sono fruibili dal punto di vista normativo, non sono state considerate le aree agricole che comunque possono essere utilizzate all'interno con i percorsi ciclopedonali dai cittadini di Pordenone ma che non vengono ufficialmente riconosciuti come servizi alla città. Quindi abbiamo considerato solo i parchi cittadini ed è un'analisi quantitativa. Per quanto riguarda la componente acqua abbiamo suddiviso in due tipi di analisi, la protezione qualitativa delle acque sotterranee e la protezione qualitativa delle acque superficiali. Per quanto riguarda le acque sotterranee abbiamo considerato tutte quelle aree non edificate che si caratterizzano per una conformazione del terreno ad alta permeabilità e quindi funzionano a filtro per l'acqua piovana che arriva nel sottosuolo. Oltre a questo anche ricadono in questa analisi quantitativa tutte le fasce di rispetto dei pozzi e le fasce di rispetto delle risorgive. Per quanto riguarda invece l'acqua superficiale si sono considerate le fasce fluviali e quindi le fasce di protezione riprendendo le fasce pile e tutti gli ambiti di influenza delle rogge esistenti all'interno del consolidato e fuori dal consolidato di Pordenone e delle risorgive. Per quanto riguarda l'aria sono state effettuate due analisi sempre qualitative. Una riguarda il microclima urbano quindi quanto le aree verdi all'interno del consolidato riescono ad abbattere le bolle di calore che è un fenomeno tipico delle aree densiamente urbanizzate. Sempre sulla componente aria abbiamo valutato la prestazione che queste aree alberate riescono a svolgere verso la componente del sequestro di carbonio e quindi alla riqualificazione dell'area. Per concludere su tutte le analisi effettuate sulle aree non edificate abbiamo creato una carta di sintesi e quindi abbiamo messo a sistema tutti i risultati significativi di queste analisi e abbiamo individuato quali sono i sistemi che partecipano in modo attivo a dotare la città di un servizio che attualmente non è riconosciuto e quindi abbiamo creato questa carta della multifunzionalità dei suoli che individua quindi per ogni singola area le funzioni ecosistemiche che svolge la città. Questa carta di sintesi quindi individua tutte le zone che svolgono da 1 a 6 funzioni ecosistemiche. Grazie. 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 Grazie.